Let's go! Allora, quali sono le emozioni alla vigilia di questo weekend? Ma diciamo che purtroppo non siamo riusciti a provare per vari motivi, non c'erano le prove libere piuttosto che con problemi lavorativi, quindi ci siamo presentati un po' all'ultimo dove abbiamo dovuto comunque scoprire la pista che non è una pista semplice, un po' l'assetto della macchina, avevamo anche cambiato tipologia di pneumatici, siamo passati a Michelin, a Yokohama e quindi le libere sono andate bene, siamo messi bene anche sopra le aspettative, dobbiamo stare concentrati perché comunque oltre il discorso assoluto della gara dobbiamo pensare in ottica campionato che ci mancano pochi punti per comunque vincerlo e quindi siamo contenti ma sai un po' agitati rispetto all'altre gare dove ci si giocava la gara, non c'era un'ottica campionato, non c'erano delle aspettative, quindi quando ci sono le aspettative è sempre tutto un po' più difficile diciamo. Senti Ettore, temperatura molto calda, come pensi che questo fattore possa influire soprattutto sulla gestione degli pneumatici anche perché naturalmente bisognerà guardare anche questo aspetto che è molto importante? Ma infatti sarà una gara totalmente diversa dalle altre perché ci hanno accorpato la Super Series, quindi meno macchine, il livello molto più alto, sono quasi convinto che ci saranno pochissime CFT Car o anche nessuna, quindi sarà una gara tutta tirata e bisogna gestire bene il discorso temperature sia del motore che dei pneumatici proprio per evitare di fare una sparata all'inizio e poi andare in difficoltà e quindi farsi recuperare o perdere il trenino di quelli davanti perché bisogna capire anche poi dove siamo e come siamo messi dentro nella gara comunque, però siamo tranquilli diciamo. E allora ringraziamo Ettore Carminati, naturalmente in bocca al lupo per il tuo weekend qui a Imola e ci vediamo in pista con le gare del Trofeo Super Cup. Grazie a tutti.